Possiamo prendere a spunto come riflessione proprio l'impostazione della vita di Maria Santissima. Se noi notiamo la vita di Maria è stata una vita molto molto impegnativa e quindi si è sforzata di portare gioia, servizio, serenità ed è quello che spetta ad ogni cristiano che deve scoprire e attuare la sua missione di portatore di Cristo nel mondo. È chiaro che il progetto della Madonna e quindi il progetto di vita anche nostro è qualche cosa di grandioso e non possiamo e non dobbiamo sottovalutare le varie difficoltà perché altro è prospettare un progetto, altro poi è l'attuazione. E quindi nel vedere le difficoltà che l'uomo incontra nella realizzazione della propria vita c'è per esempio il problema del lavoro dei giovani dei quali non hanno lavoro ma principalmente non hanno valori. È chiaro che il giovane dice perché io ho il lavoro i valori vabbè seconda cosa, invece no, bisogna considerare che i valori della vita sono poi l'anima del posto di lavoro e quindi il problema della famiglia che vive ai nostri giorni e quindi insidiate negli aspetti più strani come la fedeltà, la difficile intesa tra genitori e figli, la situazione tragica della diminuzione delle nascite e ancora la piaga dell'aborto e dell'eutanasia. Quindi allora abbiamo accennato ad alcune difficoltà del cammino del cristiano. E non possiamo non riflettere il divario tra i paesi ricchi e i paesi poveri che è una situazione critica della società. La perdita del, dicevo già prima, dei valori, il problema delle ingiustizie. Diciamo l'attenzione è solo ai propri interessi pur che io stia bene e gli altri ognuno si di arrangi di tutta una situazione in cui il cristiano si deve sentire impegnato. Perché? Perché è cristiano? Perché segue Cristo Gesù che è venuto dal cielo lasciando il seno del Padre per venire a risolvere i nostri problemi. questo Gesù l'ha fatto con un cesto meraviglioso, bellissimo, fonte di amore per eccellenza. Si incinocchia e lava i piedi agli apostoli. Quindi ogni nostro impegno come testimonianza di Gesù deve essere un incinocchiarsi davanti dall'altro e lavargli anche i piedi. Come Maria porta Cristo nella casa di Zaccaria, così ogni cristiano deve portare Cristo nella propria casa e nella casa degli altri uomini. Ogni cristiano è portatore, deve essere portatore di Cristo. E Padre Pio quando intorno al convento non vi era un'abitazione, non vi erano persone, non vi era nulla, cosa faceva? Pregava soltanto la mente in cielo, anche questo, ma non trascurava, specialmente quando lo chiamavano di andare in paese e tenere conforto agli ammalati, visitare nelle case che erano case di povera gente, stare vicino all'ammalato, confortarlo, aiutarlo. E poi sappiamo molto bene che da quella situazione di crisi si impegnò a far sì che la stessa zona di crisi venne viviceggiata, venne incrementata e da deserto diventò un deserto fiorito.